Un nuovo inizio, un nuovo avvio in questo meraviglioso luogo protetto che è la scuola dove a tutti gli studenti do il mio personale augurio di un'ottima esperienza di vita accompagnati dalle loro famiglie che li seguiranno in questo primo momento per qualcuno sarà proprio il primo, primissimo giorno di scuola per gli altri un ritorno accanto ai compagni che saranno poi nella vita i ricordi più belli e un particolare ringraziamento a tutto il corpo docente, a tutto il mondo che fa funzionare la scuola il personale amministrativo, tutti perché se le nostre scuole sono protette hanno i risultati di qualità che noi abbiamo in Veneto e merito soprattutto dei docenti troppe volte a loro scarichiamo responsabilità che magari dovremo trovare altrove a loro quindi tutto il nostro affetto e un augurio di buon lavoro